180 secondi con la tele video club ha finalmente creato per voi slim la scarpiera che in soli 13 centimetri di profondità è in grado di contenere tutte le scarpe che fino ad oggi avete sempre abbandonato in ogni angolo della vostra casa creando grande disordine la scarpiera slim soddisferà tutte le vostre esigenze di spazio in quanto disponibile in due versioni modello 3 ante 110 centimetri di altezza modello 5 ante 175 centimetri di altezza rendendola di facile collocazione in qualsiasi ambiente da un monolocale a un castello affrettatevi a telefonare perché solo in occasione di questa televendita le prime 50 velocissime telefonate potranno acquistare la versione a 5 ante del valore commerciale di 399 mila lire a sole 199 mila lire e la versione a 3 ante del valore commerciale di 249 mila lire all'incredibile prezzo di 119 mila lire il design lineare ed ultrapiatto rende la scarpiera slim di effetto vedo non vedo in quanto grazie alle sue ridotte dimensioni la si può collocare dietro ad una porta in un sottoscala nel bagno e ovunque voi vogliate passando inosservata oppure per il suo stile raffinato e le varianti di colore bianco o nero potrete addirittura collocarla in bella vista trasformandola in un elegante oggetto d'arredamento la scarpiera slim è robusta e indistruttibile in quanto realizzata interamente in acciaio con verniciatura a fuoco antiruggine e anticorrosione ideale quindi anche per esterni funzionale e pratica in quanto grazie al sistema di apertura basculante con un unico gesto avrete una visione completa di tutte le scarpe contenute in essa e inoltre racchiude nella sua linea pratica ed efficiente il segreto per contenere tutte le vostre scarpe in maniera sana ed igienica grazie alla creazione delle feritoie che consentono un energico ricambio d'aria la scarpiera slim si contraddistingue da tutte le altre in quanto dotata di un pratico ed utilissimo cassettino porta luci di spazzole luci da scarpe e inoltre contiene il sistema igienizzante ecosystem l'esclusivo brevetto mondiale televideo club che solamente a chi lo richiederà permetterà attraverso l'effetto dei carboni attivi di assorbire gli odori e purificare l'aria all'interno basta quindi al disordine dovuto da scarpe abbandonate in ogni angolo fine all'affannosa ricerca di scarpe sparse per casa perché da oggi c'è slim un elegante raffinata e pratica scarpiera che in soli 13 centimetri di profondità potrà contenere tutte le scarpe di un'intera famiglia non perdete assolutamente questa occasione perché solo le prime 50 velocissime telefonate potranno ricevere a casa la scarpiera slim modello 5 ante del valore commerciale di 399 mila lire a sole 199 mila lire e il modello 3 ante del valore commerciale di 249 mila lire all'incredibile prezzo di 119 mila lire più un piccolo contributo spese telefonate subito macine molino bianco il giusto spessore in un biscotto tutto da inzuppare per un piacere unico tutto da gustare macine molino bianco chi mangia sano trova la natura cirio latte cirio chi beve latte vive come un fascia sta bene tutta la città viva cirio cirio firma l'alta qualità del latte fresco la freschezza del frullato alla fragola la ricchezza del burro optimus il gusto dello yogurt ala non fascia e tanti bei regali avrà viva cirio montanelli non è venuto sgarbi sì e montanelli no il caffè della domenica ogni domenica alle 16 su tmc non tutti i caffè sono uguali kimbo antiguo con una tostatura morbida per un gusto leggero e vellutato antiguo e troppo buono e kimbo siete pronti non mi sento proprio bene sono tutto sudato tieni prendi la compressa di apropost che ti passa tutto ma sono a stomaco vuoto non importa è tutta naturale è come un'aranciata apropos l'effervescente senza avvertenze in farmacia in erboristeria garantisce il doctor natu dove la natura è più natura cirio sceglie i campi migliori ecco perché i pomidoro pelati cirio hanno qualcosa in più cirio così avrete tutto il sapore dei pomodori maturi sodi e polposi e dove l'aria più pulita cirio sceglie i piselli migliori per questo i piselli cirio hanno qualcosa in più cirio così gusterete tutta la dolcezza e il delicato sapore dei piselli più teneri e freschi da cirio piselli e pomidoro pelati gruppo cirio il buono dell'italia ma ah l'ha trovato eh vernell fior di pesca senta che profumo proprio come le mie pesche è vernell fior di pesca lo stesso profumo la stessa morbidezza vellutata con nuovo vernell fior di pesca morbidezza e freschezza sempre più imbattibile ma che cazzo di gioco stanno giocando tre omicidi efferati io sono dell'fbi federal bureau di integrazione il profondo sud molti qua giù pensano che per certe cose merito a uccidere il ku klux klan credi nell'odio? lo vivi? lo respiri? lo sposi persino? l'inaudita violenza razzista è colpevole chiunque veda a chiedere queste cose e finga di non vedere domani sera su TMC Mississippi Burning i classici di TMC vi sono offerti da antica erboristeria il naturale è sano